Io sono Marta Marziali, ho 43 anni e sono la candidata della lista Calenda Sindaco al Terzo Municipio. L'argomento di cui voglio parlare è un argomento che mi sta molto a cuore ed è quello della donazione d'organi. L'Italia è un paese molto indietro per la donazione d'organi e a differenza di altri paesi spesso deve ricorrere alla donazione internazionale. Questo perché non viene fatta una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza su quanto sia importante la donazione degli organi, che è una delle massime espressioni del senso civico. In Italia oggi l'adesione alla campagna di donazione d'organi viene fatta nel momento in cui andiamo a rinnovare il nostro documento. Quindi nel momento in cui noi entriamo in un municipio, rinnoviamo la carta d'identità facendo la carta elettronica, l'impiegato municipale ci chiederà se vogliamo essere dei donatori d'organi. Questi impiegati però non vengono formati per trasmettere queste informazioni al cittadino e non hanno la competenza e la capacità di capire quanto quel momento di comunicazione sia fondamentale. Perché donare gli organi è donare la vita e questo deve essere compreso. In Spagna sono state fatte delle campagne così importanti che hanno portato a essere la Spagna il paese col più alto numero di donazioni d'organi al mondo. Donare gli organi è donare la vita, lo voglio ripetere, perché noi cittadini possiamo fare comunità e fare la differenza.